bella raga buongiorno come state è sabato mattina sono le 9 del sabato mattina e diciamo che non ho mai visto questo orario di sabato mattina per l'appunto e siamo ci siamo svegliati appunto così presto perché stiamo andando ai creators day di youtube siamo stati invitati e saremo lì poi subito dopo i creators day ci sarà il nostro raduno beta perché non è che l'abbiamo organizzato abbiamo detto ai nostri amici di venire a trovarci siamo arrivati in stazione centrale a milano no perché noi abitiamo a milano il problema è che siamo in periferia di milano quindi ora che arriviamo in duomo passano 40 50 60 70 minuti il treno è arrivato stiamo cercando la carrozza solo che abbiamo di percorso abbiamo percorso tutta la lunghezza del treno e cazzo si era dimenticato di guardare sul foglietto qual era la nostra carrozza arrivato alla fine faccio sì ma qual è la nostra carrozza stiamo cercando la carrozza numero 6 ci arriveremo qua ce l'abbiamo fatta raga siamo andate a letto tardissimo perché stiamo guardando una serie troppo bella troppo bella e poi rimarreremo e tra un po partiamo bella raga ce l'abbiamo fatta siamo arrivati a bologna non vediamo l'ora di incontrarvi tutti quanti e ora andremo verso il creators day dobbiamo trovare l'hotel ora siamo arrivati a bologna ok il navigatore ci dice di andare di qua che ti è appena entrata in un bar a chiedere perché ovviamente ovviamente come ogni volta sta funzionando se tu che hai detto prendiamo una via a casa dove vai katia stiamo girando intorno dove stai andando non è giusto e di qua piazza metaglia d'oro katia stiamo girando in tondo siamo arrivati ma se la distruggerebbe in due secondi dove ne hai trovato un cane finto era identico eh ma poi mi hai costato 30 euro ma niente mi costato mi fa piacere e tu dove l'hai trovato eh sono vintito cinese secondo voi cosa dovremmo fare dovremmo prenderli noi o troviamo il nostro ma no katy c'è bisogno di un responsabile non puoi fare te scegliere te le cose non puoi e vabbè niente non puoi nemmeno se lo trovo se se lo trovi forse però non puoi mi sembra che è una cosa che non puoi fare vabbè allora niente entriamo Katia? sto solo spiando se lo trovo così non la trovo Katia basta andiamoci dai entriamo che sono curiosa lo sapevo quando leone se sono magari pelle diversificate perché magari uno fa un canale di cucina qual è diciamo il ricordo più bello che avete di youtube finora? per noi è sicuramente quando vengono sotto casa anche se stupiamo la via prima di gente non ci rispondiamo però la regola generica è che se suonano apriamo scendiamo se non suonano non fate uno schiavo Invece, per me, uno dei miei elementi migliori su YouTube è stato quando sono riuscito ad avere un canale armato funzionante nel Giacomo. Io faccio un canale di disegno, non so quanti lo conoscano, dove dimostro come si fa un disegno dall'inizio alla fine, quindi un canale di tutorial artistico. Fa il timido, è un artista veramente esagerato, faccio due tutorial. Grazie, bene, abbiamo finito, è andata bene, che fatica, è che io e Cate lo sappiamo parlare sul palco, quindi siamo sempre un sacco aggirati. Grande Marcello, guardate, lo conoscete tutti. Io siamo il mio ragazzo, facciamo anche me lo schermo, faremo un bellissimo scambio di coppia. Esatto. Comunque, se volete iscrivervi al suo canale, è Ari141. 141 anni, la memoria. Esatto. E Marcello Garenghi. Bella raga, siamo appena usciti dai Creators Day. Ciao. Sono stati super interessanti, era la prima volta che parlavo da un palco. E abbiamo conosciuto un sacco di splendide persone. Sony TV, Travel on the Road. Wow, avete capito? Vi siete iscritti, cazzo? Ci sono anch'io, Filippo Boscolo. Ecco, Filippo Boscolo, vi siete iscritti? Dov'è la mia amata? Luca, cosa stai dicendo? Ciao, cazzo. Vi siete iscritti al suo? Vi siete iscritti al suo? Ah no, sono assieme, cazzo. C'è un canale. Ora, berremo qualcosa e poi andremo... All'incontro. All'incontro. E partiamo così, con degli spritz. Ma che tene. Eh? Ma siamo tranquilli. Ti ho visto? Ma, ma... Io voglio guardare con un ciutito. Notare che squadrone, proprio che squadrone della muerta che c'è. Non si beve under 18, ricordiamoli. I video sono quelli con l'editing migliore, basta. No, è arrivato il principe. Deveva essere robe strane. E qual è la festa che faremo nella Milano? Salute, raga. Ragazzi, alla vostra. Aspettate, vediamo la settimana. Salute! Siamo all'incontro a Bologna. E ci sono un po' di persone. Ciao, raga! Ciao! Abbiamo fatto un abbraccio di gruppo, raga! Sì! 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 Ah! Stiamo facendo il video, quindi andrà online. Salute! Woo! Allora, diciamo la verità. Sono tutti qua per il mio canale. Però, però, facciamo una ripresa a loro perché sono gentili, Eurestio. E ci fare il gioco. Sì, non capisci niente. No! No! Sì, non capisci niente. Sì, non capisci niente. No! Così, non capisci niente. No! Con la Cina! No! Ciao, Patrice! No, 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 a te! 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 Ciao, Stefano! Stefan! Si chiama Stefan! Se no ti dice Stefano! Non Stefano! Cioè, capisco? Ciao, Stefan! Potevi venire qui in mezzo a noi, cazzo! Guarda quante persone... Oh, DRAGO! Sì! Ah, io so che cosa ti sapessi! Telefono! Bella raga, la nostra giornata si conclude qui. È stata un'esperienza bellissima, è stato bello conoscervi tutti quanti, sono stati super interessanti i Creators' Day. Katia non parla perché è a pezzi. Vuoi dire qualcosa? Sono un po' cotta. Ecco, ringraziamo tantissimo YouTube per averci regalato queste sacchette fantastiche contenenti delle cuffie stupende di Google che vi faremo vedere in un altro video. Poi sono stato con Big di YouTube. Ci ho passato il pomeriggio e non un pomeriggio speciale come si può pensare, ma normale, normalissimo. ed è proprio quello che ho apprezzato. Il Creators' Day è finito.